Il cinema entra nella scuola. Il 9 novembre scorso è partito infatti il PON Raccontare, raccontarsi presso la scuola Giacomo Vitale di Piedimonte Matese in un progetto che raggruppa elementari e medie. La professoressa Gianna Lucarelli e il regista Michele Schiano si affiancano in questo percorso accolto con entusiasmo dagli allievi e voluto dalla dirigente scolastica che ha lo scopo di creare una vera e propria squadra cinematografica fatta da attori e operatori capaci di realizzare un cortometraggio dedicato alla storia del territorio. Ma è facile entrare poi in questo mondo? Ne parliamo con l'attore Elvis Esposito e il regista Michele Schiano e sentite che cosa ci hanno detto. Allora Elvis tu sei un attore già affermato, il cinema entra nelle scuole, ci sono vari progetti in atto, che cosa pensi di questa iniziativa? Allora buonasera a tutti e grazie per l'invito, penso che è una bellissima iniziativa, specialmente per i ragazzi che hanno voglia di fare questo mestiere e quale luogo migliore se non la scuola può iniziare a incanalare questi ragazzi nel mondo del cinema. Io penso che mettere delle ore in più anche dopo la scuola, quindi come lavoro extra scolastico potrebbe essere un'idea che sicuramente può portare a cose belle. Quali sono le difficoltà per entrare in questo mondo e soprattutto come formarsi? È difficile? Bella domanda che richiede una bella risposta, però cercherò di essere breve dicendo. Allora la prima cosa io penso che dirò anche ai ragazzi è interrogare se stessi. se si ha veramente voglia di fare questo lavoro e qualora dovesse essere così di dedicarsi totalmente, perché poi il resto viene da sé, ma la dedizione, questa deve essere la cosa fondamentale penso. Soprattutto lo studio. Lo studio certo, bisogna perfezionarsi sempre e studiare il più possibile, assolutamente. Perché molto spesso i ragazzi immaginano un mondo facile dove entrare. Certo, allora ad una certa età è giusto intraprendere il percorso come gioco, perché poi crescendo e facendo esperienza di qualsiasi genere si inizia a capire che cosa vuol dire fare questo mestiere. Però da bambini, da piccoli, da adolescenti è giusto iniziare a studiare e guardare anche tanto cinema, che fa sempre bene, e tanto teatro. Lei è il referente di questo importante progetto nelle scuole, il cinema. Innanzitutto che disponibilità ha trovato nei ragazzi? Allora, tantissima voglia di fare, soprattutto voglia di appassionarsi, di sperimentare questa nuova avventura che è il cinema. Infatti il progetto prevede la realizzazione di un cortometraggio che appunto tocca le terre del Matese e i ragazzi sono veramente entusiasti. Disponibilità tantissima nella Preside? La Preside è una persona generosissima, pronta ad abbracciare iniziative di questo tipo e devo dire che mi auguro di fare un bellissimo progetto e che ce ne possano essere tantissimi altri. Quando è iniziato e quando finisce? È iniziato una decina di giorni fa e a fine anno è prevista la fine dello svolgimento di questo polvo. Ci può dire qualche argomento che ha già trattato? Allora, un argomento già trattato è come si scrive un soggetto cinematografico, dando appunto lo spunto agli allievi di creare prima un soggetto e poi una sceneggiatura e devo dire che già ci sono molti molti risultati. Se i ragazzi vedranno questa intervista che cosa vuole dire? Impegnatevi, fate tanto e tutti possono.